Ehi tu, prima di lasciarti al video ti ricordo di schiacciare il tasto del like per farlo diventare blu, ovviamente di iscriverti al canale con la campanella attiva per restare aggiornato su tutte le news di Fortnite, ma la cosa più importante è mettere nello shop il codice SCSX10, mi raccomando, perché chi lo farà diventerà un pro player. E ovviamente condividete il video con tutti i vostri amici per fargli sapere a tutti queste news incredibili. Manca ormai solo un mese all'uscita della season 9 capitolo 2 di Fortnite, o del capitolo 3. Ma in ogni caso tantissime nuove skin stanno per uscire e finalmente oggi andremo a parlare di come potrebbe essere il nuovo pass battaglia ragazzi, di quali skin potrebbero uscire e soprattutto di quale sarà il tema della stagione. Quindi subito un bel like al video mi raccomando per diventare dei pro, ovviamente iscrivetevi al canale e attivate la campanella accanto al tasto iscriviti per restare aggiornati sulle news di Fortnite della season 8 capitolo 2, della season 9 capitolo 2. Ovviamente ragazzi condividerete questo video con tutti quanti i vostri amici se volete informarli anche a loro delle news di Fortnite, ma mi raccomando nello shop codice SCSYT per shoppare il prossimo pass battaglia. Ragazzi mi raccomando inserite lo scad ogni 14 giorni. Ormai ragazzi manca sempre meno e le news aumentano sempre di più ragazzi, infatti mancano 25 giorni alla fine di questa stagione 8 capitolo 2 di Fortnite. Non si sa ancora se ci sarà il capitolo 3 o la season 9, ma in questo video comunque andremo a parlare del tema della season 9. Quindi se volete dei video sul capitolo 3 mi raccomando recuperatevi, ragazzi ve li lascio in alto a destra nelle schede, oppure ragazzi comunque li trovate nel canale, mi raccomando ragazzi vedeteli perché sono video molto molto importanti. Comunque vi stavo dicendo ragazzi che appunto la season 8 capitolo 2 di Fortnite sta per finire e come sapete questa season è stata una season molto molto particolare. In quanto è stata la season del cubo, la season appunto del ritorno di questo cubo, della regina dei cubi eccetera eccetera, ma la prossima season di Fortnite, ovvero la season 9 capitolo 2 probabilmente, poi potrebbe anche esserci il capitolo 3, però secondo me ci sarà la season 9. Comunque appunto vi stavo dicendo che la prossima season probabilmente sarà una season ragazzi veramente fantastica. E se la prossima season sarà fantastica ovviamente lo sarà anche il pass battaglia, almeno speriamo ragazzi. E oggi appunto andremo a parlare delle skin che potrebbero esserci nel pass battaglia. La prima skin che potrebbe essere ragazzi nel pass della season 9 sarà ragazzi Spider-Man. Infatti Spider-Man ragazzi probabilmente uscirà ragazzi nello shop o nel pass battaglia della prossima season a dicembre appunto. Perché? Perché uscirà un nuovo fill di Spider-Man il 17 dicembre. Quindi appunto è quasi confermato ragazzi che avremo la skin di Spider-Man. Anche perché ragazzi come sapete l'Epic Games ha collaborato con la Marvel praticamente da quando è uscito Fortnite, dalla season 4 capitolo 1. E ancora non ha aggiunto la skin di Spider-Man, una delle skin, uno dei personaggi più importanti della Marvel. Quindi probabilmente la vedremo ragazzi con l'uscita della season 9 capitolo 2 nel pass oppure nello shop. Ma di sicuro ragazzi vedremo la skin di Spider-Man. Che io non vedo ragazzi perché è uno dei miei personaggi preferiti anche se non sono fan Marvel ma comunque diciamo vedendolo da fuori è molto molto fantastico. E questa era la prima skin ragazzi che potrebbe uscire anzi è quasi confermato. Anche perché ragazzi nei file di gioco sono state trovate alcune cose riguardo a Spider-Man. Comunque qualche file riguardante la skin quindi sicuramente ragazzi la vedremo. Però appunto non si sa assolutamente se sarà nel pass battaglia oppure nello shop, questa cosa non la sappiamo. Io spero sia nel pass ragazzi perché come vi ho detto prima è una skin veramente molto molto bella. Comunque vi dicevo ragazzi che la prossima skin che potrebbe uscire nel pass battaglia oppure nella season 9 capitolo 2 nello shop è ovviamente Naruto ragazzi. Naruto perché se ne parla praticamente da mille anni e ancora non è uscito su Fortnite. Quindi probabilmente o uscirà a fine della stagione 8 quindi in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane insomma oppure uscirà nella season 9 ragazzi. Probabilmente non sarà nel pass però perché non doveva essere neanche nel pass di questa season quindi probabilmente non sarà nel pass della season 8 ma sarà, scusate la season 9 ma sarà probabilmente o nello shop della season 8 oppure lo shop della prossima stagione. Probabilmente speriamo esca presto, magari quando voi vedete il video è già uscito chi lo sa. Quindi appunto questa era la seconda skin che potrebbe uscire nella season 9 di Fortnite ma ora ragazzi parliamo di cose serie ragazzi. Ora niente più teorie, parliamo finalmente della skin di fondazione. Qua ho un discorso molto interessante da farvi, eh sì però magari se non mi sparano questi stupidi nemici dobbiamo assolutamente far fuori questo nemico che mi sta sparando. Ma poi dove cavolo si trova? Dove cavolo è andato? Ok è qua sotto, è qua sotto ragazzi questo nemico e tra l'altro io ho finito pure il mattone, ah no non l'ho finito perché mi si era buggato, perfetto, perfetto Fortnite. Molto molto bene Fortnite, eh ragazzi ce la faremo a killarlo secondo voi? Ce la faremo? Oh attenzione, 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 si è chiuso ragazzi, si è chiuso, mamma mia raga l'ha zirato, l'ha zirato ragazzi l'ha zirato, ok ok o no ragazzi basta devo tryhardare, devo assolutamente tryhardare questo nemico non può vincere raga, non può vincere, non può vincere, non può vincere, non può, eh niente. Però se magari non lo mi stassi sempre riuscirei anche a killarlo, eh ve lo dico, no no no, cavolo non mi buildava, no no no, calmi tutti, calmi tutti, calmi tutti, calmi tutti ragazzi, dove cavolo è adesso? Dove cavolo è? Niente ragazzi è buildato, si è boxato, no 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 no, questa cosa non va bene per niente ragazzi, per niente va bene, cavolo. Boom, mamma mia killato ragazzi, killato, contate ragazzi che sto laggando come un porco, quindi se mettete like e vi iscrivete al canale con la campanella attiva, mi fareste un bel piacere ragazzi, ovviamente nello shop codice scsyt, mi raccomando inseritelo tutti per diventare dei pro. Diventerete dei pro molto più di me ragazzi, ve lo dico, e soprattutto se ci shoppate. Comunque ora a parte gli scherzi, parliamo appunto di fondazione. Fondazione come sapete uscirà con un nuovo fumetto ragazzi, questo nuovo fumetto però uscirà, cioè è già uscito comunque, però appunto questo nuovo fumetto probabilmente ragazzi non, cioè non probabilmente ragazzi, non conterà la skin di fondazione come sapete questo fumetto, Ma conterà la skin di Batman che ride, di conseguenza, io sto dicendo ragazzi di conseguenza, che probabilmente questa skin, la skin di fondazione, uscirà probabilmente nella season 9 di Fortnite, però perché ve l'ho messa in questo video del pass battaglia? Perché ragazzi è una skin che secondo me potrebbe essere tranquillamente una skin segreta del pass battaglia. Ora doveva essere la skin segreta del pass della season 6, poi non lo è stato, poteva essere della season 7, non l'è stato, poteva essere della season 8, non l'è stato, potrebbe essere della season 9, chissà magari potrebbe, ovviamente non è niente di ufficiale ragazzi, sono tutte quante teorie, ma non è una teoria che io ho quasi ucciso questo nemico. Che io l'ho quasi ucciso ragazzi non è una teoria, è ufficiale, beh magari forse, però riesco a killarlo completamente perché ok avergli fatto danno, però io vorrei anche killarlo questo nemico. Scusi signor nemico cosa sta facendo? Si era addormentato ragazzi, si era addormentato questo nemico, probabilmente l'aveva chiamato la mamma, ma comunque in ogni caso ragazzi scappiamo da queste build ragazzi e andiamo a parlare di fondazione. Fondazione come vi dicevo potrebbe essere la skin segreta della prossima stagione di Fortnite e io sinceramente lo spero ragazzi, spero che esca nel pass appunto o sarà una skin segreta, in ogni caso comunque che non si deva shoppare. Però non è assolutamente detto, non si sa ragazzi, non è confermato né che sarà la skin del pass, né che sarà dello shop, però è un nemico. Comunque appunto fondazione potrebbe essere la skin segreta della prossima season, anche perché ragazzi questo fumetto è uscito in quest'ultimo periodo, quindi neanche a dire che è uscito tanto tempo fa o che uscirà tra tanto tempo, è uscito in questo periodo in concomitanza con la season 9. Quindi boh ragazzi ci potrebbero fare un pensierino, speriamo almeno. Niente ragazzi non ce la farò mai a killarlo, non ce la farò mai a killarlo, oh cavolo uno di vita, uno di vita, ragazzi lui c'è uno di vita, anch'io però uno di vita, no, 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 oh l'ho killato, no ragazzi non ci posso credere, non ci posso, ragazzi non ci posso credere mai, ragazzi non ci posso credere mai. Codice SCSYT per fare anche voi queste kill ragazzi con uno di vita e lui aveva pure lo spas e io l'ho killato ragazzi, sono troppo forte. O forse era lui che era scarso, probabilmente la seconda opzione è proprio quella esatta. E niente ragazzi mi stanno massacrando, oh mio dio scappiamo via da questo posto, mamma mia ragazzi, ok. Ci siamo salvati in extremis ragazzi, grazie al nostro medikit, ti prego medikit, salvaci la vita. E magari ragazzi se arriverà a fondazione del pass potrebbe essere una season veramente fantastica. Infatti sembra essere una season molto molto bella la 9 da quello che sappiamo appunto. Infatti il tema ovviamente come verrete all'inizio del video sarà un tema diciamo post regina, post evento regina. Quindi sarà un tema probabilmente dove avremo un riscontro di una guerra ragazzi. Quindi ci sarà una guerra molto molto più cattiva di quella degli alieni, cioè tra alieni e io insomma. Quindi sicuramente la prossima season sarà fantastica e speriamo aggiungano appunto fondazione per renderla ancora più fantastica. Vediamo se riuscirò a fare questo salto, via! Non ci sono riuscito proprio bene, anzi diciamo che sono caduto come un pollo ma va bene, questi sono dettagli. Quindi ragazzi questa era la teoria sul pass della season 9 capitolo 2. Mi raccomando iscrivetevi al canale, attivate la campanella se ancora non l'avete fatto. Commentate questo video con hashtag pass, mi raccomando nei commenti iscrivetevi al hashtag pass. Ovviamente codice scsyt nello shop. Vi ricordo anche, mi raccomando, di condividere il video con tutti quanti i vostri amici. Noi ci vediamo ad un prossimo video, ad una prossima live. Bye!